Momento intenso per l'attività del Consiglio Comunale dopo l'approvazione degli equilibri, adesso nuove sedute aspettando quelli che poi sono i piani importanti per la città, piano regolatore generale, piano del traffico e PUA. Sì, innanzitutto lunedì ci sarà la prima seduta di Consiglio del 2013, al primo punto all'ordine del giorno vi sarà la surroga del Consigliere Nello Musumeci di Missionario, subentrerà un nuovo collega che aderirà al gruppo consigliare della destra. E poi si tratteranno due argomenti importanti, uno è l'osservatorio contro il racket che è un'iniziativa consigliare presentata dal gruppo dei colleghi della destra e poi si tratterà un programma costruttivo per cui l'amministrazione chiede al Consiglio Comunale un voto contrario, chiede che si bocci. E aspettiamo che a gennaio l'amministrazione possa trasmettere il piano di riequilibrio, che è l'ultimo atto prima di poter dire se Catania è stata ammessa al fondo di rotazione. Per capirci, quel fondo di rotazione permetterà alla città di ricevere dal Governo nazionale 90 milioni di euro necessari per evitare il dissesto finanziario e chiudere anche la partita con la Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti non ha archiviato la vicenda dissesto, l'ha solo sospesa.